Anche il Ministero dei Trasporti pone il proprio benestare sull'avvio dei voli all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. In effetti, fino ad ora, c'era stata l'ufficializzazione della data dell'11 di luglio da parte di tutte le istituzioni, ma si facevano i conti senza l'oste. A pochi giorni dal primo volo, il dicastero di Via Nomentana dichiara il placet e di conseguenza si può davvero partire. Da mesi, in ogni caso, i varienti locali stanno lavorando all'acremente per rendere concreti i servizi satelliti allo scalo. In particolare, c'è tanto impegno sui collegamenti da e per l'aeroporto. I comuni di Battipaia, Bellizzi, Ponte Cagnano, Faiano e Salerno hanno siglato un accordo per il servizio del taxi, cosa che inizierà anche da e per Agropoli. L'ente comunale, in accordo proprio con gli operatori del settore, avvierà il servizio di collegamento tra la città cilentana e lo scalo aeroportuale. Esso sarà prenotabile da turisti e cittadini, che vorranno partire dal centro abitato verso mete turistiche o per il percorso inverso, e che vorranno trovare, dopo l'atterraggio, una vettura pronta a viaggiare verso sud. Ci saranno poi anche dei bus che uniranno il cilento e lo scalo. Come per tutti gli altri aeroporti nazionali, i servizi vengono garantiti dalle compagnie private. I tagliandi saranno acquistabili su internet o in loco, esattamente come per tutte le località italiane e non solo. Mancano poco più di 10 giorni, si diceva, e di certo non c'è più tempo per la realizzazione del collegamento su ferro, ma su questo aspetto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, insiste. Si farà, dice. Dobbiamo farlo perché l'estensione della metropolitana leggera diviene naturale. La strada ferrata c'è già e passa proprio molto vicino allo scalo. Fattibile quindi prevedere un'ulteriore fermata o un servizio dedicato, il che eviterebbe anche il trasporto su gomma, che nei mesi estivi è difficoltoso a causa dell'intensità di traffico. Tra poco, infine, si vola e la corsa contro il tempo per l'attivazione dei servizi pare sia vinta, ma solo l'11 di luglio si potrà avere la definitiva certezza e come cantava Battisti lo scopriremo solo vivendo.